L'improvvisa svolta femminista, a comando, del Partito Democratico continua a far discutere. In particolar modo per la decisione di scegliere a priori di conferire la carica di capogruppo di Camera dei Deputati e Senato a due donne senza la selezione precisa di una candidata ideale ma genericamente solo per questioni di facciata, è Giorgia Meloni a domandarsi qual sia il reale peso di una soluzione del genere, inscenata per migliorare l'immagine del partito agli occhi degli elettori. Tutto era nato dalle polemiche seguite alla scelta di affidare le poltrone dei ministri PD del governo Draghi unicamente a tre uomini. Vale a dire Dario Franceschini al di Castero dei Beni Culturali, Lorenzo Guerini alla difesa e Andrea Orlando al lavoro. Una situazione che al tempo aveva scatenato violente polemiche nei confronti dell'allora segretario Dem Nicola Zingaretti. Mi sarebbe piaciuto vedere un governo con metà ministri e metà ministri. Aveva affondato lì a Quartapelle. E mi sarebbe piaciuto che il mio partito desse l'esempio sulla parità. Scelte fatte solo con lo scopo di mantenere l'equilibrio tra le varie anime confluite nella compagine di centro-sinistra. Secondo la deputata. Da noi più che le regole dello statuto. Più che i valori prevale una logica di correnti. Questo è molto deludente. Si è più pensato agli equilibri interni che alle competenze e alla rappresentanza. Bene. Ora proiprio le correnti. In particolar modo quella renziana. Escono con le ossa rotte dopo l'arrivo di Enrico Letta il quale. Per difendere l'immagine del partito agli occhi dell'opinione pubblica. Ha deciso di silurare i capigruppo a Montecitorio e Palazzo Madama per far posto a due donne. E questo senza una scelta precisa legata al merito delle candidate. Del resto lo stesso Letta. Durante l'assemblea di ieri. Aveva parlato di una situazione non vendibile agli occhi degli elettori e dell'Europa. Un partito come il nostro. Organizzato con vertici tutti uomini. Semplicemente in Europa non ha cittadinanza. Un uomo segretario. Due capogruppo maschi. Tre ministri maschio nei governo. Cinque presidenti di regione maschi. Questa è la nostra prima fila. È irricevibile. Questa è la nostra prima fila.